perfetto questa è partita buonasera buonasera a tutti anna saluta buonasera perfetto ditemi se ci sentite sposto un attimo l'inquadratura buonasera ti saluta tata francesca ciao tata francesca perfetto allora quando io ti dico il nome ti dice ti saluta e te ripeti il nome no allora vediamo un po grazie grazie ha mandato un cuore ha mandato un cuore allora vediamo un po buonasera buonasera stasera oggi pomeriggio che cosa cuciniamo mi fa vedere come eccomi qua allora boccanto la misocera allora allora poi si guarda allora io la misocera stasera oggi pomeriggio cuciniamo lei fa la sfoglia fa i tagliolini fatti a mano in casa e io nel frattempo preparo diciamo la minestra giusto la minestra di ceci questo rumore che sentite in sottofondo non è altro che la pentola a pressione che sta cuocendo i ceci giusto allora si inizia allora vai te inizia a inizia a fa la sfoglia ciao ciao a tutti buonasera buonasera orazio allora io intanto accendo il marchigegno ho dovuto mettere la ecco così si vede buonasera signora anna ti dice orazio buonasera ora ora perfetto ora poi allora io so qui eccomi allora mi metto un attimo qui e poi dopo inizio a cucinare anch'io stasera facciamo facciamo i tagliolini fatti a mano lei sta ha messo la farina la farina ora metto le uova ma due bastano dice orazio la signora mi ricorda la mia cara nonna poi c'è aspetta c'è gozilla sam buonasera signora anna si chiama gozilla allora due uova anna sì e te le quantità le fai se avete delle domande fatele pure io vorrei ringraziare da oggi inizia un nuovo percorso per me tramite un'agenzia ci sono quattro nuovi moderatori nelle mie live io faccio la minestra di ceci bob sì io nuovo percorso con un'agenzia ci sono quattro moderatori che saranno sempre presenti nelle mie live ecco sì ok allora la marca della farina non si può far vedere perché non ce la bloccano allora è perfetto grazie e ora fra poco i miei moderatori entreranno in live sono tutti riconoscibili tramite un logo io intanto voglio ringraziare chi ha fatto parte fino ad oggi dei miei del mio gruppo moderatori e quindi ora anna sta facendo la sfoglia sta impastando l'uovo ci ha messo ci ha messo ci ha messo all'olio un pochino un pochino di sale perfetto perfetto e quindi grazie grazie a tutti voi a quelli che mi hanno supportato fino adesso è partito un nuovo percorso un percorso emozionante diciamo anche con parecchie responsabilità però mi fa piacere perché questo è l'intrattenimento che mi piace portare nelle vostre case e da voi dove siete nelle vostre case nel vostro cellulare insomma da ovunque mi guardate allora io direi se ci fossero già alcuni moderatori che possono salutare magari ciao Antonella Mulone è una persona splendida e noi siamo orgogliosi di averti conosciuto grazie grazie allora Antonella Mulone è la ragazza la grafica una carissima amica che lei realizza tutte le mie grafiche ora io sono specchiato quindi non so come questo logo qui l'ha studiato e realizzato ciao Monica l'ha studiato e realizzato Antonella allora i miei moderatori ci sono sono arrivati ciao Monica allora vabbè vediamo se arrivano i miei moderatori intanto buonasera io inizio a cucinare la minestra se no la mi social mi passa avanti intanto se volete fargli delle delle domande io sono qua allora intanto Anna quanti anni hai Anna se si può dire di una signora 89 89 anni 89 vediamo ah ecco primo moderatore Zeus sono riconoscibili dai logo che mi ha realizzato Antonella Mulone è un logo dei moderatori se avete bisogno delle domande e le domande loro le metteranno in in sovraimpressione quindi non vi penate se mi sfugge qualche domanda ve la ve la ve la rileggo dopo grazie a Zeus piano piano quelli che entrano ora sono freschi freschi quindi i nomi non me le ricordo no è vero me ricordo ma non le dico allora iniziamo a cucinare allora Anna ti frego l'olio allora tanto Anna va a controllare sì sì a 90 anni allora mettiamo 30 grammi d'olio bene 30 grammi d'olio andiamo avanti 80 grammi di cipolla io ho già preparato la mia cipolla in pezzi a 1 2 3 e 4 un po di più ma non importa 80 grammi di carota bene poi andiamo avanti 30 grammi di sedano avanti rametto di rosmarino ma non ci va stasera mettiamo mettiamo il tappo con il paraschizzi che avevo qui e ora eccolo qui è il paraschizzi perché il paraschizzi perché ora andrò a frullare buonasera ecco un altro moderatore sono bipolare buonasera tutti i moderatori con dei nomi abbastanza tranquilli zeus sono bipolare poi arriverà anche un altro inquietante allora andiamo a cuocere ad alta temperatura ad alta temperatura il bimbi raggiunge i 160 gradi e diciamo che allenta le fibre della delle verdure quindi questo momento c'è quattro minuti possiamo fare delle domande ad anna anna te sei arrivata in maremma però sei casentinese a retina di che di che posto di pegaiola il comune di sisti di prato vecchio stia che cosa facevi da da giovane partivi diciamo d'inverno e venivi a settembre d'appoggio di prato magno fino a capalbio fino a capalbio e ti fermavi a un podere a poderi è il podere è il podere birbante che ti ha fatto rimanere in maremma quale è stato il podere spigabraccagni ora si emoziona dove ha conosciuto il misocero e si poi andarono a star braccagni poi ci siamo conosciuti e con moreno è stato amore a prima vista primo te ha avuto solo moreno ma mi dicevi che era un po birbante da piccino e bevucchiava un po è da piccino bevucchiava buon pomeriggio raptor ecco ecco un altro moderatore ciao alessandro c'è alessandro allora devi salutare zeus ciao zeus 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 con la zeta zeus mai alla cane non ci si fa zeus zeus no z z con la zeta zeus brava poi c'è sonno bipolare saluta suono di ciao sono bipolare sono bipolare poi c'è aspetta non mi ricordo alessandro perfetto ha fissato un commento e devi salutare tata francesca a modo mio devo salutare tata francesca a modo mio perfetto raptor raptor saluto raptor saluto rap rap tor bellissima sta cosa daniela ti saluta ciao daniela ciao daniela perfetto te io quando ti dico per di il nome no simone ti saluta te devi dire ciao simone va bene allora redemon ti saluta ti saluto allora monica dice grande suocera sempre in gamba ciao saluti da catania grazia si chiama saluta grazia saluto grazia vai anna ma gli ha scritto alessandro buttalo di sotto io sono zeus ci sono troppi zeus qui allora allora grazia ti manda baci intanto buonasera buonasera felice per te sono la nostra fortuna che suocere dice redemon quindi allora intanto noi andiamo avanti quindi qui abbiamo fatto i nostri primi quattro minuti abbiamo insaporito le verdure posizioniamo il misurino che cosa abbiamo fatto in questo momento l'abbiamo all'estate insomma via diciamo cotte come si dice si fa il soffritto no normalmente quindi se ci sono dei commenti ditemelo eh allora vado avanti e ora mi dice di frullarla ecco ora abbiamo aperto la pentola a pressione e ora le frulliamo attenzione eh parte piano 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 allora dice monica anche mia suocera a 93 anni è sempre in gamba come come te ha vito eh c'è una 93 4 più anni di che allora andiamo a prendere il mestolino me lo sono scordato qualcosa mi scordo eh insomma anna e quindi questa transumanza ma che era la transumanza perché facevate la transumanza eh perché ecco in che mezzi si poteva avere per spostarle allora c'era mica cani c'era mica niente per portarle e voi partivi diciamo quanto vi ci voleva per venire da Arezzo fino giù a Viterbo andavi poi anche sì ma dopo loro io sono stata fino a Capalbio fino a Capalbio quanto vi ci voleva di strada a piedi 15 giorni quanto quanti chilometri facevi al giorno all'incirca se te lo ricordi se ne faceva mi pare 3 all'ora 3 chilometri all'ora con le pecore quindi voi portavi il greggio mi ricordo che una volta mi avevi detto che una volta il 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 treno passò e vi chiappò le pecore al passaggio a livello che me lo disse nonna Etta la tua mamma che ve le votò un paio ma forse te non c'eri allora c'era il tuo puro fratello c'era allora ora bisognerebbe metterci i ceci però ce l'abbiamo aspetta vai stai qui stai qui stai qui ti guarda stai qui ci penso io ti ha smesso di soffiare eh poco soffia poco ti riii no il manico ma stai attento eh aprila piano piano no no la fa soffiare un troppoino tanto c'è altri 10 minuti sì allora sbaglio o ti ho visto dalla tata Francesca chi chi aspettate che vuol dire eh eri un figurino sì sì io sì oioia che ha detto allora Eli Danza sbaglio o ti ho visto ah Eli Danza sì sì Eli Danza viene spesso nelle nelle mie live allora ora ti metti la sfoglia in un contenitore di plastica perché lo fai questo perché diventa si va a riposare un pochino e poi diventa più liscia diventa più liscia dopo ora poi vedrete che fa la spiana quindi con la spianatoia si diciamo la tira come si dice tiri la sfoglia sì sì ora si aspetta 5 minuti con il mattarello con il mattarello allora questi cusci d'uova si levano si buttano via allora questo se quelli va uguale qui il ha finito di di bollire aspetta vai te l'apro io no no l'apro io l'apro io ti sta preoccupando ci mancherebbe piano eh vai vai ora si aspetta un attimo che ci metto le mani perché c'è il vapore che mi porta buonasera 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 mami ciao mami ore 17 e 30 sono lì va bene Alessandro stiamo cucinando per te infatti infatti questa minestra mica tutta eh un pochino un piattino ti saluta Paola Anna vieni qua a salutar Paola sì mi sciocco le mani allora tutto bene allora Paola Montanari ti saluta saluta Paola ti saluto anch'io Paola perfetto allora vediamo si mette in postazione ah ah è vero è vero giovedì sera alle ore 21 abbiamo Bignet eh per parliamo di tecnologia il 4 aprile avremo eh lo psicologo delle dipendenze e l'11 aprile c'è un eh un cambiamento l'11 aprile avremo eh un veterinario eh di animali da compagnia quindi ciao Alessandra Braco stiamo facendo la minestra di ceci dove la le tagliatini le farà in diretta a mano mia suocera quindi andiamo andiamo avanti ora si si cavano un po' sti ceci no? possono cavare? si si le ho recoperto allora allora ce ne vuole 150 grammi noi le coliamo prima allora vai vai casino vai allora vediamo un po' bobo buoni so così sai Anna allora guardiamo un po' 150 grammi vediamo questi sono appena fatti eh guardate guardate sono appena appena fatti i ceci allora 150 grammi di ceci madonna sono quasi ero quasi perfetto ma io ce ne metto un altro pochino ma mettici lì tu tutti vai ma crepi l'avarizia Anna tanto poveri siamo e poveri si rimane eh allora poi avanti si posiziona il misurino e cosa facciamo come una buona minestra dice ci frulliamo tutto se avete delle domande per Anna fatele pure eh allora 5 secondi velocità 5 allora vediamo un po' tata è un vero piacere le sue live sono uniche ah grazie grazie allora i moderatori si sono si sono affiancati a me oggi io ringrazio davvero tanto ai miei moderatori dove vai dove va al lavoro vieni a salutare Fede dai vieni a salutare però devi venire qui boh non so ciao saluta saluta lei è la nipote si chiama Federica e sarebbe la mia figliola si si trucca si guardava se andava tutto bene e domani arriva no non si può dire perché ah ma oggi sei di festa te oggi sei di festa e allora vai leva chi la coglioni vai ciao allora va in palestra va bene amore ciao ciao ma domani te la danno la macchina allora ma che ne fai ma io so tutto si vai allora 700 grammi d'acqua Anna sono mia pochia allora vai 700 grammi avanti due cucchiaini di sale mi passi il sale a vedere la live di Tata anche io voglio vedere la live di Tata certo certo seguitela scusate non posso dire insomma andate a vederla insomma via no come si fa a dirlo eh allora questo boh speriamo Alessandro non te la fa salata se no ti arrangi saome allora grazie di mattina presto si Tata fa la live verso le 5 la mattina poi allora qui ora si usa un altro accessorio stasera il cestello mi serve dopo l'olio eh Anna ah si si mi riserve un pochino allora se poi no sale no sale no allora 10 minuti e cominciamo a portare hai ragione hai ragione scusa io sbaglio sempre perché so preso dall'emozione no di questa nuova di questa nuova avventura poi questi moderatori qui sono abbastanza severi lo fanno lo fanno da sempre quindi chi è che scrivono raptor si scrivono le cose fra di loro allora intanto ringrazio chi è presente in questo momento comincia la tiratura della sfoglia la sfoglia verrà tirata ma se ti dannoia questa roba lì alleviamo tanto lo riprendiamo dopo vai te la levo allora aspetta Anna ti dannoia qui ti dannoia altro perfetto sta tirando la sfoglia una informazione stiamo amalgamandoci sì sì ma non vi letirà insomma volevo chiedere ai moderatori dopo mia suocera dovrà fare i tagliatini e dovrà usare uno strumento che si fa si fa vedere oppure fatemi capire perché io ho visto che durante le live quando fanno lavori di cucina si vede perché sarebbe ah sì perfetto ti metti avanti però un attimino andrebbe fatto vedere come fa vediamo un po' se mi risponde oppure Zeus Zeus lo vedo no niente lame allora allora niente quando te le tagli mi tocca mettermi davanti poi nasconde tagliare e io posso vedere quello che viene fuori ogni tanto va bene allora io quando è perfetto allora sì da lontano così lo può si può non ci capisco più niente allora allora voglio capire se allora bisogna capire perché insomma e questa transumanza così va bene cioè se rimane a quella distanza lo può fare aspetta eh mi confronto che non vorrei che ci bloccano la live esatto perfetto allora lo puoi fare dopo tagli perfetto allora Anna quando facevi la transumanza portavi il greggio delle pecore dalla montagna in primavera diciamo d'inverno le portavi verso il mare perché per avere un'aria più calda e cambiare pascolo a Capalbio si portava a Capalbio a Capalbio per una questione di eh allora Zeus quello che sta uccendo signora Anna mi ricorda qualcosa io perché le leggo perché mi fate leggere queste cose non non è cioè facciamo seri allora allora vediamo un po' vediamo vediamo se ci sono domande vediamo un po' allora intanto noi continuiamo a a a a a a a a dire un po' di cose ah eh infatti ma io lo capisco ma se vedo il messaggio poi me lo fissate quanti ricordi mia nonna io non dico non lo leggo quello non so non so quello che vuole dire allora io però ti leggo quando scrivi quindi devi leggere anche tu eh sì sì effettivamente hai ragione perché io ho contato a Francesca Anna devi sapere che io gli scrivo le cose mentre lei è in live come siamo noi le cose un po' ambigue e lei mi legge e ci si fa delle risate perché lei non dovrebbe leggermi allora eh è tanto caruccia perfetto allora vediamo un po' intanto la sfoglia si sta sta venendo fuori quindi noi siamo partiti eh siamo partiti da eh diciamo l'uovo e la farina un gocciolino d'olio l'acqua non ce l'ha messa vero no perché bastava la chiara no la chiara dell'uovo no no io nella sfoglia l'acqua non ce la mette l'acqua non ce la mette allora si sente quando parla nonna Anna ditemi un po' insomma tutte le grafiche che vedete realizzate tutti i loghi anche questo del cappello eh io devo ringraziare la mia carissima amica eh la mia grafica Tonella Mulone io sono eh veramente rimasto rimasto colpito da pensate che io con lei eh ci siamo trovati un giorno al bar eh non ci conoscevamo e e lei molto professionalmente mi ha fatto una scheda e mi faceva parlare non mi ha mai interrotto mai mai una volta eh che mi abbia interrotto eh sì veramente grazie eh e eh alla fine io gli chiedevo tutti i giorni mi fai vedere cosa hai pensato mi fai vedere cosa hai pensato e lei no perché perderesti il perderesti la bellezza del dello scoprire questo nuovo logo e io ero partito da un logo diciamo che anche lì una carissima amica ero curioso sì Antonella ero curioso a dopo a dopo Ale e e quindi niente io faccio vedere intanto eh così e io niente quel giorno fate conto che me l'ha fatto vedere online e mi ha detto eh prima il tuo logo era così era così e poi ta ed è venuto fuori il nuovo il nuovo eh il nuovo logo infatti anche i loghi che sono dei andateli a ad aprire cliccate sul nome del del moderatore insomma i loghi del del moderatore l'avevo fatto uno io oggi veloce Antonella mi ha subito cazziato mi ha detto no te devi fare qualcosa di professionale te lo faccio io va bene ci mancherebbe poi quando una donna dice no non è che è sì ma è no quindi allora intanto saluto chi sta entrando saluto tutti benvenuti allora in questa live stiamo preparando una da antico antico a moderno stiamo preparando i tagliolini al sono incantata dalla signora no è mia suocera hanno 89 anni august si chiama august august ti saluto a esto ciao saluta anche Antonella ciao Antonella Antonella è quella che ha fatto il disegno questa ragazza ha fatto il disegno andiamo giovedì alle ore 21 due chiacchiere mette della farina ah mi chiedono se metti ogni tanto della farina sul tavolo sulla spianatura quando è un po' più male fa bellina soda per tagliarla subito appena che ah quindi te l'allunghi meno per tagliarla subito no l'allungo normale come però la fa più 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 soda più soda avete capito che quando finisco di spianarla la taglio e via allora io Antonella ti ho già invitato e la mia socera è formidabile con i tortelli di patate casientinesi qual è l'impasto dei tortelli di patate spiegaci come viene fatto l'impasto l'impasto viene fatto si lessa le patate poi si prende la pancetta si macina si mette in un tegamino si fa scioglie al fuoco quando si è tutta cosata ci si mette il pomodoro e un pochino di conserva insomma anche i tubettini poi si fa bollire ci si mette un po' di pimentina e quello è il zucchetto si fa bollire bene bene che venga bellino denso poi si rovesciano queste patate nell'insalatiera che sono lessate e passate con lo schiacciapatate e quando è fatto tutto per benino l'impasto si fa la foglia invece di mettere quelli con l'erba con i mucchiettini si fanno con queste patate condite con questo allora ti chiedono siamo toscani si si poi ti dicono ma la conserva la conserva di concentrato 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 in quei tubettini quei tubettini si si perfetto allora qui mia mamma era così august mi fa piacere perché allora 100 grammi di pomodoro allora io intanto tolgo questo lo appoggio e devo mettere 100 grammi di pomodorino ciliegino allora faccio un attimo la tara scusate mi metto di spalle perché io sono troppo vicino e quindi non si deve vedere il coltello insomma quello per affettare i pomodorini sono già stati lavati mi raccomandano pensate che qui si metta aspetta un attimo fermati un attimo se non mi sbarelli tutta la bilancia fermati un secondo allora andiamo un po' perché per la legge sulla violenza questa roba allora 100 allora la minestra ora aspettiamo un attimo perché la minestra deve essere fatta quindi un attimino siamo nel frattempo che Bob di spalle scannerizzate il QR code ecco nel frattempo che io sono di spalle così non so se si vede no così scannerizzate il QR code non ci vede niente così allora scusate arca miseria ho spostato tutto e ora una volta che lei l'ha tirata fino a arrivare alla allo spessore che diciamo più giusto per fare per fare tagliatini la piegherà su se stessa vero la pieghi su se stessa poi vi fa vedere casomai quando eh infatti sì non ciao ciao tata saluta tata ciao tata allora io sono bipolare mi sa che sta andando via allora intanto saluto chi sta entrando ciao tata ci vediamo sicuramente domattina quando aprirai la tua live io intanto vi ricordo che alle ore 21 giovedì ci sarà Bigenet parleremo di tecnologia a 360 gradi quindi vi invito a iscrivervi all'evento poi il 4 di aprile sempre un giovedì alle ore 21 ci sarà lo psicologo delle dipendenze dottor Verona che parlerà con noi delle dipendenze quindi anche delle dipendenze da social e poi l'11 aprile abbiamo un cambiamento perché ci sono sono sopraggiunti degli impegni per una persona che doveva essere in live impegni imprevisti ci sarà l'11 aprile ci sarà il nostro veterinario sardo quindi parleremo di animali da compagnia diciamo e quindi lui ci porterà in questo mondo con le domande naturalmente che competono un veterinario io vorrò conoscere lui diciamo più dalla parte personale ma fino a un certo momento come capisci quando lo spessore è giusto Anna della sfoglia si si può guardare anche così però si sente bene con le mani con le mani cioè deve essere un po' trasparente sì ecco deve essere un po' trasparente allora intanto vi volevo dire che se avete degli argomenti degli hobby delle professioni e ne volete parlare in live come ti ringrazia Zeus dell'informazione e se volete delle informazioni volete parlare di qualsiasi cosa non lo so volete parlare del vostro hobby del vostro sport io ben volentieri sarei disponibile a intervistarvi passare magari una mezz'oretta insieme fare due chiacchiere ho ricevuto la disponibilità di due persone proprio oggi pomeriggio mi ha fatto un enorme piacere ricevere queste queste conferme quando l'avrò fisicamente concretizzate e avrò i loro video saranno subito da mettere in evidenza perché veramente secondo me diciamo c'è da lavorare tanto su quelle due interviste lì sicuramente una per un verso l'altra per un altro saranno delle interviste che non credo che si possano esaurire in mezz'ora come diciamo l'intervista al dottor Verona lo psicologo delle dipendenze anche lì non sarà una live di mezz'ora perché naturalmente sicuramente ci saranno tantissime domande e a queste avranno dovrà rispondere intanto io ringrazio veramente i miei eh i sì in alto a destra là così qui così qui così io voglio ringraziare davvero Raptor Zeus Sono Bipolare io vi ringrazio davvero e Zeus per perché non è facile fare i moderatori i moderatori sono sono veramente eh i moderatori sono veramente una parte importante delle live fanno sì che queste procedano eh veramente in modo pulito eh delle volte vi chiediamo eh vi chiederanno eh di non fare determinate cose in live ma loro eh sono eh dei professionisti eh sanno a memoria il regolamento della piattaforma eh se vi chiedono di non fare eh sì bravo sì eh se vi chiedono di non fare cose non è che lo fanno per darvi contro o per eh non non farvi interagire con me eh ma lo fanno per tutelare tutta la live e anche voi per poter poi continuare a usufruire di questi contenuti eh la cosa bella di avere dei moderatori è che poi si instaura un un rapporto che va al di là del rapporto professionale ti conviene metterci un po' di farina si attacca ancora no e poi si fa vedere eh quanto è trasparente quando sei pronta si alza qui davanti al monitor e niente quindi grazie davvero grazie a questi ragazzi che oggi è la prima live che stanno moderando con me eh è una prima quindi per me è emozionante di una certa responsabilità loro loro veramente stanno facendo un un ottimo lavoro sei pronta? sì allora mettiamo facciamola la può vedere la faccio vedere non so se si nota vedete ecco qua il grado di trasparenza è questo no ma ci mancherebbe la fiducia ci mancherebbe altro che ecco qua e il grado di trasparenza è questa ora procediamo a la lascio così che io aspetta c'è un pochino no niente un pezzettino ora si buca ma si deve vai a posto allora stupendo allora e quindi niente stiamo facendo i tagliolini qui c'è già in quasi pronto diciamo il la minestra di Ceci che cosa ora mi so fermato ma perché ho fatto parlare parecchio mia suocera ha perso del tempo sino altrimenti avevamo cronometrato tutte e due le fasi e si doveva finire insieme però l'ho fatta parlare naturalmente quindi quella che sta facendo la sfoglia è mia suocera ha 89 anni e niente mi fa piacere avere la possibilità di condividere con mia suocera questi momenti perché e questo questo video poi andrà sulla piattaforma rossa Liliana grazie Liliana andrà sulla piattaforma rossa dove lo potete naturalmente naturalmente mi dispiace che non potrete vedere i commenti le vostre reazioni però ho cercato a mia suocera saluta Liliana saluto di Liliana 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 ha visto tanti saluti ecco qua allora e quindi mi fa un enorme piacere sicuramente resterà un un ricordo fruibile per tutti ecco ora sta facendo le pieghe alla alla pasta allora perfetto allora intanto io saluto tutti saluto chi sta entrando in questo momento mia suocera si sta preparando a fare i tagliolini la dividi in due vero la la sfoglia la pieghe no no la rotolo ah tutto tutto un rotolo unico perché l'ho fatta piccina ah quindi ora si va a prendere quello lì e ora lei comincerà a vai prendilo subito vai allora se volete io penso si può si veda no ditemi i miei allora signora ci svela il segreto per arrivare alla sua tenera età così bella ma perché la misocera è bella perché la misocera allora allora vi faccio vedere dammelo un pochino in mano può vedere ecco qua questi sono i tagliolini che sta facendo in diretta mia suocera 89 anni non è facile perché poi devi tagliare ti manda tanti baci poi ti manda Liliana ciao bianco sole ti dice complimenti grazie bianco sole bianco sole perfetto allora io intanto vi ringrazio tutti le persone che stanno condividendo la live non lo devo dire l'aciderba a me vi ringrazio tutti non lo dovevo dire l'ho detto allora bianco sole ti manda signora ti dice sono bipolare mi adotta sono una brava figliola va bene va bene però devi prendere anche me quando vieni qua però ci trovi anche me qui quindi occhio vedi un po' allora vediamo un po' se ci sono delle domande stiamo facendo anche a me mi sa che qui aumentano so tante so due anche bianco sole perfetto allora lei sta facendo in questo momento i tagliolini i tagliolini sono una pasta che per le minestre vero sono molto molto buona perché è una pasta pacchetto completo dice allora naturalmente vi ricordo giovedì alle ore 21 intervista a Biganet parleremo di tecnologia questa live io mangiavo sempre il finale della sfoglia quante volte me la dai pezzi di sfoglia a me a darretta me la mangerebbe tutta ha capito mi farebbe piacere perché le interviste non so a moderatori come posso dire ma le troverete tutti sul sul canale sul tubo tutte e addirittura divise per capitoli in modo che possiate andare a scegliere il capitolo la parte che vi interessa e sfruttarla al meglio cioè naturalmente sono live che alcune durano anche un'ora un'ora e mezzo io capisco che tutta la live magari uno non la guarda però essendo divise per capitoli potete ritrovare e magari il punto di un'intervista tipo con Viviana Bazzani o con Accorciabro o con diciamo Ozzot o con Spiga ci sono i vari capitoli in modo che voi possiate andare diciamo anima mia non lo so che cosa sta succedendo allora perfetto intanto ci siamo fermati un attimo che manca? Eh Anna? No no niente la soffia me Allora anima mia dice perfetto posso scegliere giorni dispari allora una viene giorni pari e una viene giorni dispari sapito? Cosa? Quelle due ragazze che vogliono essere adottate una viene giorni pari e una viene giorni grazie Eh sì sì perché ti vedo mangi sempre boh bene ma anch'io faccio vero che ho fatto da mangiare? Sì sì eh so bravo o no a far da mangiare? sì sì col bimbi ma anche senza bimbi solo col bimbi so bravo? Ma è con tutto quando lo fai ma al più lo fai con quello vedi vedi io mangiavo anche la pasta cruda no no io quella mangio io mangio solo la pasta cruda cioè io se fa la pizza è un casino eh perché io mi lievita nello stomaco perché io ce la fa sì la più brava è la suocera ha tanti è normale però a quanto siamo pesiamola perché ne devo mettere un po' per Alessandro se no ah questa ti passa per Alessandro eh ma poi si cuoce lì poi dopo ci si rimette o si mette tutte e poi si dà una parte Alessandro come si fa? eh o la cuoci nel bimbo io ho quel liquido la metto in una pentola e si cuoce lì no no si cuoce lì si cuoce lì allora si taglia un altro po' si ma no dimmi te quando sai la misura che che va bene allora io intanto quanto è costa? allora come? il liquido quanto è? eh più di quasi un litro e allora vedrai queste pasta eh ma questa se se ne mette un po' di più si fa per tutte e due? no occhio a questo noi bisogna farlo per fino a un fondo e i pomodorini le lascio in quel modo si si ora poi tanto ci devo mettere altra roba che si fa? se ne mette un altro po'? si ora ne taglio un altro po' ma questa basta per Alessandro o no? si allora mettiamo questa vai mettiamo questa vai si mette direttamente così? si si la butti giù dentro e via allora poi se ci se ne mette un altro pochino allora guardiamo un po' vada questi qui vada ma allarga allora poi noi si rifà dopo allora avanti 250 grammi di ceci andiamo a prendere altri ceci allora vediamo un po' se sono stato bravo allora signora un bravo genero il nostro Bob il difetto più grande mi difetto più grande dillo dillo che c'è un po' di carattere strano c'è un carattere strano beh mi infiammo subito vero? eh mi infiammo subito eh sì eh quello purtroppo mi infiammo subito ma poi come ma poi come ora basta pronti niente no no mi zitto mi zitto eh zittati perché se no allora buona sapersi allora vediamo un po' e via ah quanti minuti quanti minuti si fa cuoce? ah non so perché io la metto giù quando vedo che è pronta cinque minuti ci vorrà sì di più no di più no facciamo quattro minuti e mezzo così guarda vai aspetta perché questa fa presto eh infatti non è come la pasta vai allora quattro minuti e mezzo ho messo allora parliamo parliamone strano come anima mia dice carattere strano come eh sono un po' fumino un po' fumino un po' fumino ma se gli pigli al fumo per davvero se mi pigli al fumo per davvero piglio fu ha capito ha capito com'è eh conviene pigliando andassi conviene pigliando andassi ha detto madonna pubblicità regresso questa allora intanto ora poi bisogna trovare il posto per mettere l'alessandro questa parte perché dove si mette il busso non te l'ha dato questa volta eh ci vuole roba che chiuda che chiuda se no fa come torta che simpatia ciao Olli ti saluta Olli ciao Olli Olli anche lei volete vedere quell'altra Olli guardai un po' guardai un po' Olli lui lei è Olli Borda e Colli ti dice ciao cara ciao Olli allora eh non ho capito prima eh se si può dire il il canale del tubo oppure no se i moderatori mi aiutano così imparo cose nuove eh vediamo un po' se se si impara cose nuove sì posso dire proprio sul canale eh eh così diretto puoi dirlo allora mi troverete questa live e le altre interviste sul mio canale youtube Bob Gas TV dove lì saranno divise eh sul canale del tubo eh mi freghi Zeus eh sul canale del tubo Bob Gas TV saranno divisi per capitoli si assicura che nessuna suocera è stata o sarà maltrattata Antonella guarda Antonella ti aspettiamo eh ti aspettiamo eh lo sai con chi insieme a chi eh mi farebbe piacere mia socia vi aspetta eh per farvi tortelli di patate orso marsicano buonasera orso marsicano allora vediamo un po' vediamo un po' allora se allora calcolate che noi abbiamo iniziato la nostra live alle sedici buonasera buonasera moreno eh ringrazio siete tantissimi moreno di me buonasera moderatore ha fissato un commento ringraziamo tutti siete tantissimi no no ma davvero guarda sono contento perché mi fa piacere che questa è finito taglialini sì sì perfetto tagliolini sono finiti per la seconda mandata dopo noi faremo un'altra 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 lavorazione così però voi dovete calcolare che mia socia era perso un po' di tempo per parlare della transumanza per parlare di queste cose ma la la pasta manca 50 secondi ed è cotta quindi capite che ci sarà fatto quasi insieme se non ti fermavi a chiacchierare serai precisi ottimi tortelli di patate live prenotata con ricetta ah vogliono una live come si è fatto ora però con tutto il procedimento di quando fai tortelli di patate cioè come fai tagli la cosa la pancetta lessare le patate poi le metti insieme fa il zucchino insomma e la sfoglia e poi si fa vedere tutto proprio dall'inizio alla fine allora il dolce lo porto io allora sono bipolare ha detto fra 5 minuti è qui e il dolce lo porta lei allora intanto ringrazio davvero stasera anche biancosole si stanno litigando ste due ragazze vogliono allora si trasferisce in una pentola a questo punto ci conviene prendere una pentola aspetta questo me lo sposta così non mi lasca allora si prende una pentola poi la mettiamo e qui è un po' tutto artigianale quindi allora fa vedere io porto allora qui siamo parecchi allora intanto mi fa vedere ciao allora io porto le bollicine allora e la bocca non la porta nessuno ognuno porta la cosa ma la bocca la suocera è del casentino di Pegaiola Pegaiola vi spiego un po' da dove viene mia suocera Pegaiola era una località sopra Stia sopra Stia Prato Vecchio nel casentino c'è Papiano da Papiano si prendeva ancora più avanti nella macchia e si arrivava a questo Pegaiola lei un podere un podere Pegaiola quando lei era piccolina partiva con la sua cartella di cartone no di legno di legno la cartella di legno e io porto me qua bene e si andava fino al renaccio a scuola e te una volta trovasti chi trovasti i militari mettiti lì se non ti vedono spiegali quella cosa Anna quando trovasti quanti anni avevi mi imparavi la seconda quindi sei anni sette anni eh sì quindi sono passati 82 anni era una mattinata di vento e neve da far paura allora lì vicino avevo la mia cugina e questi porretti quando mi videro passare mi venivano incontro o mi volevano da una mano o che vuoi sapere insomma io berci su per la strada correvo come una mano un pochino più là arrivai giù dalla mia cugina e poi rimasti lì tutto il giorno a scuola non ci andai perché in quanti eri in quanti eri in casa per quanto io la sera 24 24 persone tutte nella stessa casa mi pare sei camere tre giù dove si aveva la cucina lunga grande e poi su sopra passa su e insomma e che ti volevo dire ma quando e cucinava che cucinava per la mia nonna 24 persone ma allora che cucinava pigliava un paiollo d'acqua la attaccava a quella catena poi ci metteva un goccino d'olio quando l'aveva e poi faceva tagliatini senza ova perché avendo le galline però erano del fattore e il contadino l'ova non le doveva adoffrare ma e come faceva il fattore a sapere quant'ova faceva se mangiavi l'ova e allora era la mia nonna perché se ci fa la sfoglia sono accidenti e invece per la paura che si cucinava con quest'ova le faceva senza ova buttava questi tagliatini in questa pentola ci buttava un bel po' di patate insieme prima cocevano sicché si pigliava e quello però che raccontavi dalla terra le verdure ve le potevi portare sì poi si coceva i fagioli ci sapeva sì ma quel discorso della ringa è vero o no che ci drusciavi il pane sì no la ringa in un piatto in 24 persone una ringa una ringa sicché indovina che trovate niente e per dormire no per dormire no no era tutto a posto ah no ma ci sapeva i materassi le chiamavano i sacconi pieni di foglie di gran turco ma pensa che si dormiva quello era il materasso con le foglie di gran turco con le foglie di gran turco e chi le fuciva le fucivi con quei lagoni grossi con lo spado no no si mettevano dentro si si era fatto il piano del letto come una fodera insomma lì dentro ci si metteva queste foglie di gran turco ma belle morbide dice dice sono io io sono allergica sarei crepata nel sonno perché giustamente eh sì no se uno era allergico per carità ma che ti volevo dire ma poi quando quando per lavarsi come facevi per amor di dio un cosino una catinellina le più volte si andava fuori alla cannella addirittura con l'acqua di accia che scorreva dalla cannella e via allora mettiamo questa allora qui abbiamo finito ma si sono cotti troppo mi sa di sì si sono cotti un po' troppo si si sono cotti si sono un po' appiccicati 5 minuti eh l'ho messi 5 minuti ma si vede che ho fatto un po' e ora quando riprenderanno un po' sai con la pasta con la pasta fatta in casa è un pochino no ma non è attaccato no 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 so vai allora la nostra pasta noi l'abbiamo fatta ora ora si si richiacchierà un pochino si richiacchierà un pochino con la socera allora 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 ti volevo dire e poi e rifà un'altra pentola si fa eh io ti dicevo ma poi dico eh e quindi vi lavavi a turno oppure tu ti vi lavavi tutti i giorni eh tutti i giorni chi la sera chi e poi la mattina l'omini chi andava a seminare chi andava dietro alle pecore e dimmi un po' e per lavapanni come facevi come facevi a chi se lo ricorda che andava con la pila con l'acqua alla pila si si ci sava la pila come c'è ora su a papiana visto là al poggiolo si ecco ci sava una pila in quel modo andavi lì con l'acqua corrente e via che l'acqua che scorreva e poi si faceva il boccato con la cenere ah spiega un po' come mai si faceva la cenere perché non c'era i detersivi non c'erano altre cose allora era un coso di legno proprio tutto che non versava insomma ci sa giusto prima si lavavano questi lenzoli alla pila poi si mettevano tutti lì dentro poi con un telo grande si metteva tutto per bene che è ci si metteva la cenere tutta bella pulita si setacciava che non ci fosse il carbone che poi quello se no macchiava i panni e si allargava tutta in questa di nozza poi con l'acqua bollita si metteva tutto in questa cenere e veniva giù quest'acqua che era chiamato ranno il ranno il ranno si chiamava ragazzi vedete si impara sempre cose e si che ma veniva certi lenzoli bianchi belli con la cenere con la cenere pensiamoci un po' cioè con la cenere venivano i lenzoli bianchi va bene ragazzi allora io naturalmente mia socia c'era 89 anni starebbe a chiacchiera tutto il giorno però ci riproponiamo di rifare una live insieme in questa settimana dove anzi venerdì facciamo così Anna venerdì si fa i tortelli di patate va bene venerdì facciamo i tortelli di patate in diretta quindi facciamo tutta la procedura facciamo l'impasto la sfoglia e poi stai lì stai lì dove hai si volevo dire le patate le posso lezzare si le patate le lessi tanto lo diciamo che l'abbiamo ma non in piatto no perché brucia da morire e ora siccome questa la do al mio collega Alessandro che fra poco passa di qui io vi ringrazio vi ringrazio davvero tutti io di essere stati con noi di aver condiviso questi momenti grazie Antonella i racconti sono il nostro bagaglio più importante i ricordi sono il bagaglio più importante che ci possiamo portare dietro ricordo sul tubo troverete questa live divisa per capitoli dove mia suocera io dividerò dove fa la sfoglia quando parla delle pecore quando parla di vari argomenti io ringrazio profondo del cuore i miei nuovi quattro moderatori Zeus sono bipolare raptor e aiuto mi manca uno Zeus raptor sono bipolare e ora ho un vuoto di memoria vabbè aiuta aiutatemi anima mia no anima mia sì anima mia scusate è la prima volta ce l'ho me le ricordo quindi grazie grazie a tutti io vi davvero vi voglio bene quando mi vedete sapete cosa dovete fare cosa dovete fare per stare insieme giovedì ore 21 con Biganet ciao saluta Anna ciao ciao a tutti è piacere di essere stati insieme vai ciao 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 ciao